Licia mi ha nominato la lesbica dice Fernanda di te come rispondi a questa frase ma tu mi conosci bene Alfonso e io non amo essere etichettata ma orgogliosa di esserlo brava Allora io voglio poi sento Fernanda perché poi tra l'altro conosco Fernanda e voglio parlare con te Fernanda perché so che insomma tu sei proprio la persona più open mind che possa esistere su questa terra ma adesso tra poco parlo con te però voglio fare semplicemente voglio dire questo cioè l'orientamento sessuale di una persona non è che identifica la persona cioè io quando parlo di Paola non dico la etero quando parlo di Licia non dico la lesbica giusto quando parlo di me oppure quando parlano di me non vorrei che dicessero il gay mi chiamassero Alfonso punto Alfonso punto